Bene, siccome adesso abbiamo un candidato alla segreteria e siamo qui per questo, direi che la parola va a Matteo Salvini! Allora, non facciamoci riconoscere anche all'estero, dai, facciamo... Io avevo preparato un discorso e non sono solito farlo, ovviamente non leggerò una riga del discorso preparato, come era facile immaginare, perché un conto è dirlo, un conto è farlo, un conto è parlare da consigliere, da assessore, da europarlamentare, da segretario della Lega Lombardo, un conto è parlare prendendosi sulle spalle una responsabilità enorme, che sono fiero e onorato di chiedervi, però è un cammino che o facciamo tutti insieme o uno da solo non vince, neanche se si chiama Gesù Cristo. E quindi ci sono se ci siete, ci sono se ci siete, altrimenti solo non si può... Allora, innanzitutto un saluto a chi ci ascolta in diretta su Radio Padania Libera, a chi ci ascolta nell'altro salone e sono altre centinaia di persone, fategli arrivare il calore, non ci stiamo qua dentro, siamo in tanti, siamo in troppi, meglio, meglio, e quindi un saluto a chi non è qua dentro. Io non vorrei parlare di un congresso di partito perché io non la sto intendendo come un congresso di partito, la sto intendendo come un momento di comunità. Prima vedevamo alcune immagini del passato, il tempo passa per tutti, un altro Umberto Bossi non rinasce, quindi chiunque volesse fare l'Umberto Bossi bis o Roberto Maroni bis sarebbe un matto, ognuno ha i suoi pregi, i suoi difetti, le sue caratteristiche. Quello che non cambia negli anni invece è il linciaggio vergognoso e schifoso che la stragrande maggioranza dei giornalisti italiani e romani riserva alla Lega e purtroppo se l'Italia, lo dico ai colleghi stranieri, se i politici in Italia sono un problema, dobbiamo dirci che anche i professori, gli economisti e i giornalisti probabilmente sono esattamente uguali e sono dello stesso livello, purtroppo di Daniele Vimercati, di Guido Passalacqua, di giornalisti seri non ne nascono tutti i giorni, abbiamo quello che passa al convento. Fosse per me, dal prossimo appuntamento in avanti, senza voler fare liste, e lo dico da collega giornalista, chi non parla bene della Lega, però chi dimostra obiettività e correttezza morale e professionale entra al congresso della Lega, gli altri possono uscirsi a una calci in culo perché di penni vendoli speculatori non abbiamo bisogno, andate a fare i giornalisti da un'altra parte, se la Lega vi fa schifo andate a fare i giornalisti da un'altra parte, non abbiamo bisogno di voi, oggi facciamo le persone educate, dalla prossima volta fuori, tanto scrivete le stesse schifezze, tanto mandate in onda le stesse schifezze, almeno non fatelo in mezzo alla nostra gente che non si meriti ad avere dei parassiti simili che poi spargono fango e veleno, e lo dico da giornalista, con tutto rispetto per i giornalisti che fanno il loro lavoro, ci avete rotto i coglioni, ci avete ufficialmente rotto i coglioni, con i ladri ci si comporta da ladri, perché ci sono degli interessi da difendere evidentemente, ci sono degli interessi da difendere, ci rompono i coglioni sulle mutande, uno Stato ladro, uno Stato ladro che ci ha lasciato in mutande, ci rompe i coglioni sulle mutande, senza la Lega questo Stato sarebbe già fallito, probabilmente sarebbe un bene, probabilmente sarebbe un bene, a qualcuno in Piemonte rode il fatto che magari perché c'è la Lega in regione non lavorano gli amici degli amici degli amici, dei cugini benpensanti, a qualcuno rode che grazie alla Lega i consiglieri regionali hanno avuto lo stipendio di mezzato e i cittadini piemontesi risparmiano 30 milioni di euro all'anne, ma ingoiatevele le mutande se avete tempo da perdere su queste cazzate, e parliamo di lavoro, e parliamo di risparmio, e parliamo di cose serie, e al prossimo che fa una domanda su queste cazzate le mutande gliele mettiamo in testa, Roberto non c'è nulla di cui chiedere scusa, andate a fanculo, il ladro è lo Stato, con la Lega si risparmia, con la Lega si risparmia, non rompeteci le palle e lasciateci lavorare, punto. Questo nel discorso non c'era, scusate lo sfogo, ma questo nel discorso non c'era, però non è possibile, che quando qualcuno ti porta... Matteo, 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 Matteo! Io rispetto il lavoro di tutti, ma pretendo lo stesso rispetto, se non per i dirigenti della Lega, se non per me, europarlamentare, se non per i ministri, se non per i governatori, il rispetto Roma e i suoi servi lo deve portare ai militanti della Lega che ci mettono il cuore, ci mettono i soldi, ci mettono l'anima e non meritano di essere trattati come il peggio del peggio. Io oggi ho letto che qua, e lo dico alle delegazioni europee, agli amici russi, francesi, olandesi, fiamminghi, austriaci, il segno della fine della Lega è che a Torino c'è il peggio del peggio, perché sono amici che osano dire che non vogliamo morire di immigrazione, che non vogliamo morire di disoccupazione, che non vogliamo morire di fanatismo islamico. Se questo significa essere populisti, io sono orgoglioso di essere populista, se gli altri sono gli schiavisti, sono gli assassini, e viva il populismo degli artigiani, degli agricoltori, degli allevatori, dei pescatori che hanno i calli sulle mani. Noi stiamo con chi ha i calli sulle mani, noi stiamo con chi fa fatica e si alza alle 4 della mattina e produce, e vorrebbe solo produrre, non essere assistito, ma vorrebbe solo produrre. Tutto qua. È una comunità, dicevo, è una comunità, non siamo un partito. Il primo giornalista mi ha chiesto oggi, c'è il PD che si trova a Milano, chi se ne frega, mi spiace per Milano. Ma piuttosto che i travagli interni al PDL, a Forza Italia, all'NCD, al CCD, all'Udc, il bello della Lega, io ritorno a 23 anni fa, quando in bicicletta uscivo da casa mia in zona piazzale Bande Nera a Milano per andare nella sede di Via Vespri Siciliani, dove ad aprirmi la porta c'era Roberto Ronchi che mi ha insegnato tanto e che ho visto con orgoglio sul video. La Lega non è un partito, ma una comunità, perché nel momento in cui nasce un bimbo a un militante, anzi complimenti e auguri al segretario nazionale della Toscana e a tutti quelli che stanno avendo bimbi e bimbe in questo periodo, però la Lega deve tornare a essere comunità. E questo lo dico al di là dei programmi, poi vi garantisco che ho messo giù anche quello che un segretario serio deve mettere, sia l'indulto, l'immigrazione, il lavoro, la famiglia, gli artigiani, tutto. Però secondo me la precondizione per vincere, perché possiamo vincere, che ne scriva qualcuno, la precondizione per vincere è essere comunità. quando parti in battaglia puoi avere i migliori armamenti del mondo, ma una cosa è fondamentale, devi fidarti di quello che hai di fianco. Se parti in battaglia e non ti fidi di quello che hai di fianco, la battaglia è persa, è impossibile. E lo dico alla Lega che, attenzione, non ci sarà niente di facile, però da qui a maggio non ci può essere una virgola interna fuori posto. Da qui a maggio dentro le sezioni, dentro le segreterie provinciali, dentro le segreterie nazionali non deve volare una mosca, ma non nel senso che è vietato parlare, anzi io sono contento dei dubbi, i dubbi di Umberto Bossi sono i miei dubbi, chi non dubita è un cretino. E abbiamo visto l'euro certezze di Prodi, l'euro, che figata, saremo tutti più ricchi e più belli. Per par condicio devo dire che anche Berlusconi disse che l'euro era un'idea straordinaria e quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare. Però un conto è la discussione, un conto è il dibattito, un conto è il confronto, un conto è la perdita di tempo, la chiacchiera fuori posto, fuori luogo, l'invidia, l'insofferenza. Non c'è spazio veramente ragazzi per questo, la battaglia è immensa. Quindi io lo faccio se ci guardiamo negli occhi e ci diciamo convinti che prima si sconfigge il duplice nemico, Roma e Bruxelles, poi dissertiamo di tutto e del contrario di tutto, poi decidiamo se è più elegante Zaio o se è più elegante Tosi, se è più sorridente Maroni o è più simpatico Giorgetti. Però prima vinciamo o quantomeno prima proviamo a vincere, altrimenti non andiamo più a casa. Io vi dico che per quanto mi riguarda da domani le segreterie sono luogo di discussione, di dibattito, di scontro se serve, ma fuori per quanto mi riguarda sappiatelo, sappiatelo, mio dovere è ascoltare tutti e poi decidere, però la prima virgola contro Tizio o contro Caio che esce su un giornale, che esce su internet, che da dentro arriva fuori per sputtanare qualcuno, di quelle persone non c'è bisogno, di quelle persone non c'è più bisogno. Quindi un conto è il dibattito, un conto è il confronto, un conto è il dialogo, la chiacchiera no, non ce lo possiamo permettere. Lo dobbiamo ai Gipo Farassino, ai Cesarino Monti, lo dobbiamo ai tanti militanti che non sono più qua fra di noi. Uno è quello, non è famoso, però io ce l'ho sul portachiavi della mia macchina usata con 160.000 km, non ho Franco Baresi, non ho Belen, ma ho quella faccia di quel signore là, che era un militante di Osio Sopra, in provincia di Bergamo, del Fiore, che non c'è più, ma che era il primo ad arrivare al Pontida ed era l'ultimo ad andare via da Pontida. Quindi io mi impegno di fronte alla gente come lui a mettere a disposizione tutto, se serve anche la mia persona, non dico la vita, lo lascio decidere ad alcuno di voi, perché quando vedo che in mezzo al campo ci sono gli 11 della Nazionale che dicono siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò, non so se ci credono, se ci credono anche loro, però siamo una comunità, siamo una comunità in cammino forte che può vincere. Io mi sono segnato un tot di citazioni perché mi hanno detto che un candidato segretario se non fa almeno 15 citazioni dotte a Larenzi non è uno serio, quindi a fine discorso le sparerò una via l'altra, ma sono anche belle frasi da Oriana Fallaci a George Orwell, da Gianni Brera a Carlo Cattaneo, quindi poi ve le mando via mail, preferisco parlare al cuore, non al portafoglio, l'emergenza è il lavoro, quindi la Lega deve battersi alla morte per il lavoro. A me piacerebbe che il primo Consiglio federale della Lega Nord, e questo lo chiederò ai membri del Consiglio federale, si tenesse non in via Bellerio ma in una delle tante fabbriche che rischiano di chiudere, perché noi dobbiamo ripartire dalle fabbriche, ripartire dai negozi, dagli artigiani, dalle botteghe, quindi portiamo la Lega in fabbrica per dare delle risposte, non per fare delle sfilate. Non abbiamo bisogno di fare pubblicità, non abbiamo bisogno di una segreteria bella, giovane, simpatica e abbronzata come qualcun altro. Io non guardo alla carta d'identità, ho 40 anni, la gioventù ha in dote quel tot di incoscienza che serve, ma ovviamente non ha in dote quel tot di esperienza che serve, ci sono alcuni ottantenni che sono molto più avanti di alcuni ventenni che si rimbesuiscono davanti alla televisione, però sono orgoglioso di aver cominciato dalle sezioni e dai giovani padani perché un po' di incoscienza in un momento come questo serve. Poi c'è modo e modo, c'è modo e modo di portare gli ottant'anni, noi metteremo nel nuovo regolamento della Lega che ci si considera giovani padani dai 14 ai 95 anni, così nessuno... Poi dicevo, c'è modo e modo di portare gli ottant'anni, perché a 88 anni uno come Bernardo Caprotti che dal nulla ha creato un impero che dà da lavorare a tanta gente e a 88 anni anche Giorgio Napolitano che invece gli imperi li sosteneva e quindi sul lavoro di altra gente. C'è modo e modo di essere 88 anni, però sono scelte. Una comunità con alcune idee chiare, sono accusato di essere un po' liberal, addirittura ho visto un giornalista, il comunista padano, io ascolto tutti, rispetto le idee di tutti, ricordo che Monsignor Maggiolini quando ebbi la fortuna di incontrarlo a Como, uno dei pochi grandi uomini di chiesa, mi disse Salvini, mi raccomando tenete duro voi come Lega perché un conto è la libertà di religione e un conto è la libertà di invasione. Qua nel nome della libertà di religione ci stanno fregando per imporci il loro modo di vivere che non è compatibile con i nostri valori, con la nostra democrazia, con la nostra tolleranza, quella non è libertà di religione, quella è soprafazione, quello è omicidio di una cultura. Io ho visto quando ieri a Cagliari un immigrato indiano di 36 anni ha picchiato a sangue la moglie, arrestato dalla polizia, ha detto ma posso farlo perché è mia e l'ho comprata, questa non è libertà di religione, questo va preso, va messo sulla barchetta, va rispedito in India, magari rimandiamo in India lui e ci ripigliamo i due Marò visto che al governo non mi sembra che ci sia nessun altro in grado di farlo, quindi facciamo un cambio alla pari tra quel delinquente e due che facevano il loro lavoro. Però dicevo col massimo rispetto, la famiglia, il matrimonio si ha fra un uomo e una donna, il resto è unione, il resto è scelta e i figli si fanno, questo l'ha deciso non la Lega ma il buon Dio, si fanno se si mettono insieme di buona volontà e con energia sufficiente l'uomo e la donna e i figli si danno in adozione a una mamma e a un papà, non al genitore uno e non al genitore due. E dove ci sono i cretini del genitore uno e del genitore due ci deve essere un militante della Lega che tutti i giorni gli ricorda che la mamma si chiama mamma e il papà si chiama papà e il 25 dicembre si festeggia il santo Natale, non qualcos'altro. perché alcuni punti cardine li dobbiamo avere. E su questo penso che la battaglia in Europa, ripeto, col massimo rispetto per le scelte di ciascuno, non entro nel merito delle scelte personali di ciascuno, però quello che mi preoccupa è che penso che ci stiano cercando di rifilare un mondo al contrario, il mondo alla rovescia che passa attraverso anche le parole. George Orwell appunto, e riesco a mettere dentro una citazione, diceva che le dittature, prima ancora che le azioni, vogliono controllare i pensieri e le emozioni. e quindi non esistono più i clandestini. Avete più letto o sentito in qualche telegiornale dei clandestini? Esistono i profughi, i richiedenti asilo, i migranti, chi arriva in casa nostra senza permesso è un clandestino che va rispedito a casa sua, calci nel sedere, punto, punto. e poi richieda quello che vuole, dopo, un'altra volta, più tardi. Quindi sull'immigrazione zero. E io aggiungo che non c'è più spazio per l'immigrazione clandestina, ma dal mio punto di vista con 4 milioni e mezzo di disoccupati non c'è più spazio per un solo immigrato, regolare o irregolare non mi interessa. Prima la nostra gente. Certo, prima la nostra gente rischia di farti venire in galera. Io vedo là Oscar Lancini che in uno stato normale sarebbe stato premiato e in Italia è finito in galera. Lo dico ai colleghi stranieri. Noi abbiamo un sindaco che ha osato far lavorare a Brescia un'impresa bresciana per fare un'opera pubblica per i cittadini bresciani. Magari non ha rispettato alla lettera tutte le normative di Bruxelles dell'Europa, i vincoli, l'asta eccetera eccetera, perché se uno segue tutte le delibere, le normative di Bruxelles dell'Europa, di Roma, dell'asta, l'appalto a Brescia lo vince l'impresa di Reggio Calabria o di Catanzaro che ricicla i soldi dell'Andrangheta e che poi ti lascia il buco invece del palazzetto dello sport. Guarda un po', dieci giorni di arresti domiciliari e di sciopero della fame, sciopero della fame che l'hanno fatto dimagrire visto che quando lo fa qualcun altro di solito ingrassano lo sciopero della fame. Ma questo per dire che però dobbiamo essere pronti a tutto, da qui a maggio ce ne tireranno dietro di ogni, preparatevi, tutti, chiunque, con ruolo o senza ruolo, non faccio il veggente, ci saranno indagini, ci saranno arresti, ci saranno infami, ci saranno sputtanamenti sui giornali o ci difendiamo l'un l'altro ovviamente quando c'è qualcosa da difendere. Gli errori in primis in casa nostra non sono mai stati né mai verranno giustificati. Se qualcuno usa in mala maniera un euro si accomoda fuori, se qualcuno usa in mala maniera un centesimo di euro si accomoda fuori. Però siccome le proveranno tutte perché hanno paura, perché dal mio punto di vista non sono mai stati così deboli sia a Roma che a Bruxelles, più mostrano i muscoli più sono deboli. Il difetto che ha avuto Umberto Bossi è di aver previsto sempre con troppo anticipo quello che poi si andava a realizzare e quindi noi partivamo un quarto d'ora prima e gli altri dicevamo ma cosa stanno dicendo questi qua? I dazzi. Non lo ricordate quando dicevamo per proteggere le nostre merci servono barriere doganali, serve proteggere la nostra impresa. Adesso ci arrivano, parlando di Europa, Umberto io lo so che l'euro non ha certezze profetiche da vendere. Il dubbio c'è, chi non dubita non è particolarmente intelligente. Poi però alla fine del percorso che ti pone dei dubbi e delle domande devi scegliere se salire o se scendere. E io più leggo i numeri più mi convinco che l'indipendenza adesso sia duplice, l'indipendenza solo da Roma rimanendo con il cappio di Bruxelles non è sufficiente, l'indipendenza solo da Bruxelles rimanendo con lo Stato italiano fra le palle non è sufficiente, è duplice, però lo strumento che è servito allo Stato italiano per tenere ingabbiata la padagna si chiama euro e quindi prima salta l'euro prima posso riprendere a far la mia battaglia per l'indipendenza perché ci hanno fatto entrare nel sistema euro per non lasciare che la padagna andasse per suo conto e per fottere la nostra impresa, fottere la nostra agricoltura, fottere il nostro artigianato. Quindi prima un vivere, quindi prima ammazzare il mostro perché veramente a Bruxelles ci sono dei criminali, sono dei criminali in giacca e cravatta ma altro che forconi, uno dice i forconi sono dei criminali, a confronto dei ladri di Bruxelles i forconi sono dei lord e se devo scegliere se stare con un burocrate assassino di Bruxelles o con qualcuno che è in piazza a protestare per difendere il suo lavoro la Lega sta in piazza e quando va a Bruxelles è per smontare Bruxelles, non per fare altro. Anzi, penso che a marzo ci sarà una grande manifestazione a Bruxelles con fiamminghi, con olandesi, con francesi, con austriaci, diamoci appuntamento a Bruxelles. Ripeto, un conto è dirlo, un conto è farlo ma già aver capito è qualcosa, già aver capito è qualcosa, visto che qualcuno si ostina nel secondo secolo dopo Cristo c'era qualche pensatore che si ostinava a sostenere che la terra era piatta e chi osava dire che forse, forse c'era una vaga possibilità che la terra fosse rotonda o abbiurava o finiva sul rogo e quindi c'era qualcuno che continuava a sostenere ma veramente ci abbiamo anche un po' studiato, ci parrebbe tonda, però se ci tenete diciamo che è piatta. I secoli hanno dimostrato che se è tondo è tondo e che se è piatto è piatto. L'euro è stata ed è una moneta criminale, l'euro è un crimine contro l'umanità, contro la nostra impresa, contro la nostra agricoltura, contro la nostra economia. La terra è tonda, l'euro non funziona. Poi su quello che viene dopo, le due monete, le due valute, le 38 valute, per carità di Dio, iniziamo a individuare che cosa ci sta ammazzando. Poi Padagna, sì sicuramente, un giornalista mi ha chiesto ma oggi diventate indipendentisti? No, guarda che hai perso vent'anni di storia. Oggi confermiamo che siamo indipendentisti, che fino a ieri abbiamo giustamente seguito la via istituzionale, non sono uno di quelli che cambia opinione in base ai quarti d'ora, viene eletto segretario quello là, prima lo ritenevo un pirla, adesso diventa un genio. Io sono più coerente, se io ritengo che uno sia un pirla rimane pirla a prescindere dalla carica che ricopre. Quindi preferisco così e preferisco chi mi critica costruttivamente rispetto a chi mi elogia acriticamente. Quindi ovviamente entro una certa misura perché poi mi girano le palle, però il diritto di critica esercitatelo assolutamente ad abbundanza. E quindi è quella la strada, siamo indipendentisti, era giusto provarci a Roma? Sì, assolutamente, le abbiamo provate tutte. Lo dico anche se ci sta ascoltando via radio e magari ci dice quello che diranno a voi tutti ogni volta, avete delle buone idee, è giusto, avete ragione, però insomma siete lì da vent'anni, ormai un altro liet motif, avete governato per vent'anni, a parte non entriamo nel merito dell'avete governato per vent'anni. Però era giusto provare la via istituzionale, le alleanze, la devolution, il federalismo fiscale, i costi standard, è giusto provarle tutte. Fa bene Flavio Tosi a provarci ancora e io sono assolutamente con lui e se ci saranno elezioni politiche e se ci sarà un'alleanza, se ci converrà, se servirà alla nostra gente, non ai nostri deputati, ma la nostra gente, lo valuteremo e sicuramente sono persone come Flavio Tosi quelle che possono darci qualcosa in più. Però dal segretario della Lega sono straconvinto che con le buone maniere non otterremo niente. Purtroppo abbiamo a che fare con dei ladri e quindi anche i tre governatori su questo saranno fondamentali. Anche Roberto Maroni, Luca Zai e Roberto Cota hanno la sfortuna di essere i migliori governatori possibili nel momento più sfigato possibile. Nel senso che in un momento normale ci basterebbe avere tre ottimi governatori come abbiamo. In un momento eccezionale, in un momento in cui i sindaci dicono io mi dimetto, cosa sto lì a fare? Il gabegliere per conto dello Stato ladro? No. In cui gli assessori, i consiglieri comunali, in cui la gente non ne può più. Noi non mancherà molto al giorno in cui dovremo i dirigenti in primis e quindi i segretari in primis e i governatori davanti fare da scudo alla massa di amministratori locali che non ne possono più. Io spero che il Veneto sia l'inizio della fine dello Stato ladro e mi auguro che qualunque Veneto di destra, di sinistra, leghista o non leghista spinga per il riferendum per l'indipendenza del Veneto perché se passa lì non ce n'è per nessuno, se passa in Veneto non ce n'è per nessuno e poi l'Unione Europea dirà di no. Ho letto che l'Unione Europea minaccia la Catalogna dicendo non riconosceremo e non riconosceremo il referendum per l'indipendenza della Catalogna. A riprova del fatto che questa Unione Europea guarda al portafoglio e non agli interessi dei popoli. Bene, se avremo contro sia lo Stato italiano che l'Unione Europea vuol dire che siamo assolutamente dalla parte giusta e quindi acceleriamo a più non posso sul referendum per l'indipendenza del Veneto. E poi ci arriviamo, la Lega Nord non è solo ovviamente Lombardia, Veneto, Piemonte ma è anche quella terra che tanto ha dato e tanto deve tornare a dare, che si chiama Emilia, che si chiama Romagna, che si chiama Toscana, che si chiamano Marche, Umbria. Quali sono i confini? Lo decideremo una volta che avremo vinto. Prima ci liberiamo dallo Stato italiano ladro, poi decidiamo democraticamente chi ci sta e chi non ci sta, chi vuole andare con chi, per libera scelta. Io proporrò ai giovani che nel prossimo 25 aprile fuori dalle scuole andiamo a volantinare quando ci meneranno il torrone giustamente con i padri costituenti, la resistenza. Venendo qua ieri da Milano per arrivare a Torino sono passato da Chivasso e nessuno a scuola mi ha mai insegnato che la resistenza era anche federalista, era anche autonomista e anche indipendentista e c'erano dei matti che nel 1943 si riunirono, ovviamente rischiando la vita, stesero la carta di Chivasso che mi piacerebbe che i diciottenni di oggi, quelli che vanno in giro col passamontagna, con i centri sociali a parlare di libertà senza aver mai capito che cosa significhi libertà, avessero in mano quella carta di Chivasso che i partigiani scrissero dicendo la lingua deve essere parlata, insegnata nelle scuole, usata in tutti gli atti pubblici e privati, questo per dirlo a quei barboni di sinistra che quando vincono in un comune tolgono i cartelli in dialetto siete veramente dei poveretti, siete veramente degli uomini senza radice e senza futuro, perché chi si vergogna della sua lingua, della sua terra, della sua radice è una persona senza senza cuore e soprattutto senza futuro. Quella di oggi non è un congresso di chiusura, non è un momento celebrativo, io ho visto che qualche giornalista ha detto che la Lega celebra il suo funerale e Salvini dà l'estrema unzione, voglio vedere se andiamo avanti più noi o va più avanti quello lì, però noi oggi celebriamo una festa, è l'inizio della vittoria, noi non andiamo a prendere il 4,3%, noi se siamo la Lega, se la Lega fa la Lega, se ciascuno di voi si impegna, noi alle elezioni di maggio non prendiamo il virgola in più, noi pigliamo il doppio, il triplo dei voti, noi pigliamo il 10% e andiamo a ricostruire sia l'Europa che lo Stato, non mi interessa guidare un movimento, non ci accontentiamo, noi andiamo a vincere, noi andiamo a vincere come? Come? Mantenendo gli impegni, quindi battagliando senza se e senza ma, ma con le maniere, se a Roma qualcuno da qui ai prossimi mesi proverà a portare in approvazione l'indulto o l'amnistia, quelli non escono dalla Camera e del Senato, se provano a portare in discussione un provvedimento che libera migliaia di delinquenti, quelli non escono dalla Camera e dal Senato, perché i delinquenti stanno in galera per rispetto di quei poliziotti, di quei carabinieri, di quei ragazzi che rischiano la vita per mettere in galera i delinquenti e il fatto che l'Italia sia uno Stato ladro, mi hanno detto ma avete invitato persino i russi, perché in Russia succede di tutto, io non so se in Russia potrebbe mai succedere che un Rom che investe, uccide, trascina per centinaia di metri un vigile urbano dopo nove anni di galera possa uscire, io penso che sia uno Stato criminale quello che permette a questa gentaglia di riuscire e di fare da capo, questo è uno che dovrebbe passare il resto della sua vita in galera ai lavori forzati, producendo con la palla di ferro al piede per il bene della comunità, per ripagare le spese che ci costa il mantenimento in galera di questo individuo, quindi non fuori fra tre anni ma fuori più, mai più. È brutto dirlo? Siamo brutti? Siamo brutti? Siamo brutti? Preferisco essere brutto e cattivo che coglione. E quindi se è brutto dirlo tenete presente che siamo brutti. Fare, fare, mantenere, mantenere ovviamente non bastano gli slogan quindi mantenere e però non si può perché l'hanno costruita bene, l'hanno costruita bene, abbiamo le buone idee, abbiamo un progetto unico perché il progetto della Lega è unico, gli altri non hanno un progetto, gli altri possono darsi un po' di cipria, possono cambiare nome, possono cambiare simbolo, possono cambiare bandiera, possono cambiare segretari ma non hanno un progetto se non il governo fine a se stesso. Noi abbiamo un progetto che vede magari in futuro anche lo scioglimento della Lega Nord. Io a questo sono attaccato. Quando avremo liberato la nostra gente, quando la padagna sarà libera di governarsi, di decidere il suo futuro, potrebbe anche non esserci più bisogno del movimento di liberazione. Una volta che a casa nostra comanderemo noi, potranno essere e dovranno essere i nostri figli a decidere se e come andare avanti, però questo deve partire da ciascuno di noi, la carica di ciascuno di noi, non un fine ma un mezzo. Purtroppo in passato qualcuno troppo spesso ha ritenuto che il ruolo politico sia il fine ultimo della militanza. Invece il ruolo politico è un mezzo per arrivare il sindaco e io vedrò di incontrarli e di sostenerli tutti dal primo all'ultimo perché bisogna essere dei matti per fare dei sindaci in questo momento. Però un sindaco della Lega, un buon sindaco della Lega amministra bene la sua città in una condizione economica disperante ma ai fini dell'indipendenza. Se io agisco solo, ma lo dico anche come europarlamentare, come chiunque, il fine ultimo è l'indipendenza. E quindi ogni nostro atto quotidiano, però anche andare a fare la spesa in negozio, anche quale tipo di frutta e verdura comprare, la politica sono scelte quotidiane, sono scelte che ciascuno di voi fa, a volte costano, però è un momento in cui dobbiamo, il prima i nostri deve valere sempre e comunque, anche con quello che consumiamo, che beviamo, dal latte alle arance, alle scarpe, alle camicie, prima i nostri perché significa lavoro. Io sono abbastanza tranquillo perché c'è tanta gente che è disponibile a dare una mano, perché c'è Umberto Bossi che ovviamente non era un competitore, un avversario, ma Umberto Bossi è Umberto Bossi, punto, quindi non c'è altro da aggiungere e che sicuramente può dire e dare ancora tanto. E poi ci sono sensibilità diverse, per carità di Dio, ci sono sensibilità diverse e dovremo usarci tutti a vicenda, dobbiamo essere pronti a usarci, a contaminarci, a difenderci, io penso anche a chi si è candidato alla segreteria, altri matti come me, penso a Giacomo Stucchi, a Gianluca Pini, a Manes Bernardini, a Roberto Stefanazzi, aspetto le loro idee e il loro contributo, non mi ritengo migliore di nessun altro, aspetto le idee e il contributo di tutti, nessuno escluso. oggi secondo me si parte, si parte pancia a terra, però chi ci sta ci sta, chi è qua per dovere, facciamoci un esame di coscienza di dieci secondi, chi oggi è a Torino perché dovevo esserci, non mi serve, non ci serve. Chi oggi è a Torino perché è bello, perché è bello, perché è bello e quindi tornerà a Pontida, tornerà a Venezia perché è bello, perché è casa nostra. Condivido quello che ha detto qualcuno prima di me, quello che diceva Roberto Maroni, basta chiedere scusa, non c'è più niente per cui chiedere scusa, insomma siamo massacrati, abbiamo il cappio al collo, ci stanno ghigliottinando e siamo lì a discettare, ma scusi veramente, magari ho detto una parolaccia, siamo in battaglia, secondo me ce la possiamo fare perché fuori dai palazzi della politica c'è tanta gente che aspetta, i sondaggi dicono che il 50% della gente non sa, non rispondo, forse non voto, non ho capito, dove vado e una stragrande maggioranza di questi non so, fanno tutti quasi schifo, però magari la lega un po' meno, noi dobbiamo andare a recuperarli uno per uno, casa per casa, piazza per piazza, gazebo per gazebo, non solo su internet ma nella vita reale, perché la vita non è solo su internet ma è anche nella vita reale e secondo me ci possiamo togliere delle grandi soddisfazioni, vi dico che soldi ne avremo sempre di meno, quindi prepariamoci a una campagna elettorale dove sarà necessario ritirare fuori i ciclostile, le foto con i patrici, la colla in polvere, la scopa e il secchio. Io mi ricordo che la prima scritta, mi autodenuncio tanto reato e in prescrizione, la prima scritta che ho fatto vent'anni fa non sono riuscito a finirla, perché chi più grande di me mi portò a fare la scritta con la bomboletta blu alla stazione ferroviaria Milano Garibaldi non aveva tenuto in conto che noi stavamo scrivendo su un muro che distava 22 metri dal punto di controllo della polizia ferroviaria e quindi pur veloci che fumo arrivamo a scrivere leg e quando ci portarono via ci chiesero dopo un'ora e mezza, io ho 18 anni e abbastanza preoccupato, i miei a casa non vi lascio immaginare, però l'incoscienza, avete qualcosa da chiedere mentre facciamo la verbale e io e quello di fianco a me diciamo sì se ci dà la bomboletta almeno mettiamo A, finiamo la scritta, tanto beccati ci avete beccati, almeno date un senso al nostro sacrificio e lo dico ai ragazzi. Alcuni muri grigi sui cavalcavia sono di una tristezza inenarrabile, quindi se a qualcuno avanza tempo, così nottetempo, non sto istigando a nulla ovviamente, però per dire che agli altri soldi non mancheranno, il PD sappiamo i soldi dove li prende, non entro nel merito di come si finanziano altri, noi siamo nati con buone idee e tanta voglia di fare fatica, i delegati ci pensino bene prima di votare perché possono anche scegliere di non votare, perché la prima cosa che posso garantirvi è che faremo tanta fatica e che avremo tanto da lavorare, avremo tanto da rischiare, io non lo dico perché c'è anche la mia compagna e quando lo dico si incazza, però se avessi la certezza che un arresto, le rivoluzioni partono sempre da qualcosa, le rivoluzioni non ci daranno nulla per favore, non ci diranno avete ragione, è vent'anni che avete ragione, le abbiamo provate tutte però siamo al dunque, tenetevi i vostri soldi, tenetevi la vostra agricoltura, tenetevi il vostro commercio, tenete la vostra lingua, la vostra identità, la vostra moneta, abbiamo sbagliato, mi sa che non funziona così, le rivoluzioni partono sempre da qualche scintilla e se c'è bisogno di finire per sani e onesti principi in galera, io sono convinto che qua dentro per la sua gente, per il bene dei suoi figli c'è tanta gente che è disposta a mettersi in gioco fino all'ultimo e mettendo a rischio anche la libertà personale di ciascuno, perché né Mandela né Gandhi sono arrivati dove sono arrivati in punta di piedi chiedendo per favore, si sono fatti un po' di anni di galera sia l'uno che l'altro e se devo consigliare un libro, io consiglio a chi ci sta ascoltando il diario Un giorno della mia vita di Bobby Sands che il 5 maggio 1981 morì per il suo popolo, per il popolo irlandese in una galera britannica e quello era uno sciopero della fame vero, non come gli scioperi della fame all'italiana, non alla bresciana, è all'italiana. Per dire che dobbiamo essere pronti a metterci in gioco, se ci mettiamo in gioco siamo solo come soci ordinari militanti 20.000 persone, quanto possono fare 20.000 persone compatte, determinate, orgogliose e coraggiose, tutto, tutto, 20.000 persone se vogliono possono fare tutto, tutto 20.000 persone possono fare. Con l'anno nuovo propongo, proporrò, propongo a voi, proporrò al federale alcune iniziative per riportare sulla piazza e sulla terra alcuni soggetti che non so come si comportino nei paesi a noi vicini, però un bel referendum per fare in modo che in un momento in cui tutti fanno dei sacrifici, facciano dei sacrifici anche coloro che a parole difendono i lavoratori ma si arricchiscono sulle spalle dei lavoratori che sono i sindacati, riportiamo sulla terra i sindacati, facciamogli pagare le tasse, facciamogli pubblicare i bilanci, facciamo in modo che l'iscrizione a un sindacato non sia un'iscrizione a vita perché si fa più in fretta a divorziare che non a disdire la tessera sindacale. Ma noi non ce l'abbiamo con la CGL, ognuno è libero di fare quello che vuole, sappiano gli iscritti alla CGL che con i soldi delle loro tessere hanno aperto uno sportello in Tunisia per spiegare ai disoccupati tunisini come venire a lavorare in Italia, è un sindacato che fa una roba del genere, è un sindacato che dovrebbe essere trasferito in Tunisia, però vediamo se un referendum del genere ce lo fanno fare. Due referendum, le idee non si processano, non si arrestano, le idee si sconfiggono con altre idee, la legge Mancino che mette in galera le idee è una legge infame, quindi andiamo a cancellare quelli che sono reati d'opinione. C'è una filosofa e una femminista di sinistra francese, Badinter, che è diventata assolutamente nemica della sinistra al caviale perché ha osato dire basta, ha osato dire hanno inventato in Francia ma vale anche in Italia i termini per cui finisci etichettato come il peggio del peggio, islamofobia, in Francia si sono inventati l'islamofobia e perfino questa filosofa di sinistra dice basta diamo alle parole il loro giusto peso, se nel nome dell'islam dobbiamo venire a farci massacrare e colonizzare allora non sono io a essere islamofoba, quindi diamo alle parole il giusto peso, non c'è nessuno spazio per certo tipo di arroganze che usano la religione per imporre i loro fini, quindi da questo punto di vista orgogliosi non del nostro passato ma di quello che è il nostro futuro perché chi ha radici salde guarda avanti, chi si vergogna di se stesso fa la fine dei cristiani e dell'impero romano d'occidente che poi finì sotto qualcun altro, quindi alla faccia dell'islamofobia qua si fa come si fa da secoli, punto, non c'è dibattito possibile sul fatto che un'idea possa essere arrestata e visto che bisogna cancellare degli enti inutili, mettiamo dei gazebo in tutte le piazze della Padagna visto che vogliono chiudere i comuni, le province, le regioni, togliamoci di torno l'ente più inutile e parassitario che c'è che sono le prefetture, ma a cosa servono le prefetture? Ci sono i sindaci, ci sono i governatori, lasciamo che l'ordine pubblico e la gestione del territorio venga seguita dagli enti locali, lo diceva Einaudi nel 44, prefetto e democrazia ripugnano l'uno all'altro, possiamo dirlo noi, lo diceva un campione del liberalismo come Luigi Einaudi, ripetiamolo ad alta voce noi, ma voi difendete le province? Sì, perché le province sono territorio, perché le province sono montagna, perché le province sono acqua, sono terra, sono fatica, noi ci difendiamo, ma dobbiamo fondere noi i comuni, ma vi pare che a fronte di uno Stato ladro dobbiamo mettere insieme noi due o tre comunelli per spermare 20 euro e non rimandare a casa lo Stato ladro, chiudiamo lo Stato ladro e tutte le sue emanazioni. Il Presidente della provincia di Brescia ha mandato lo sfratto al prefetto? Ebbene, o paga o se ne va e se non se ne va lo accompagniamo noi fuori e si cerchi un monocale in periferia e non 5.000 metri quadri in centro a Brescia, sarà una bravissima persona però non c'è più posto, non c'è più posto. Si può fare, sì si può fare, siamo stati fin troppo pazienti, ci sono tante battaglie, non voglio annoiarvi anche perché poi dovete votare, se parlo troppo non mi votate, potrebbe essere un bene, potrebbe essere un bene, quindi vado avanti ancora un'ora e un quarto. Questo per dire, lascio perdere tutto il resto, che per me è un onore, è un'emozione, è una responsabilità enorme. Sono convinto che la Lega sia l'unica speranza per i nostri figli, sia l'unica speranza di libertà, sia l'unica speranza per chi vuole salvare il suo lavoro, sia l'unica speranza per quegli artigiani, per quelle partite IVA, per quegli imprenditori, per quei produttori. sicuramente noi non siamo una speranza per i parassiti, noi non siamo una speranza per i 30.000 forestali della Calabria, per i lavoratori socialmente utili di Napoli, per questa gente noi non siamo una speranza. Per il pubblico impiego, per tanti dipendenti pubblici la Lega è un obiettivo, perché io ne conosco personalmente di quelli che fanno il loro lavoro, il lavoro anche dei tre colleghi che non sono mai in ufficio e non fanno un cazzo e quindi per rispetto nei confronti dei dipendenti pubblici che fanno anche il lavoro altrui dovremmo anche cominciare a licenziare quei pubblici dipendenti che non fanno il loro lavoro, dovremmo cominciare a mandare a casa quei pubblici dipendenti che sono lì a scaldare la sedia, dovremmo cominciare a valorizzare gli insegnanti, i professori che ci mettono l'anima, che trasmettono amore ai propri studenti. Ma perché dobbiamo pagare lo stesso stipendio alla maestra che fa bene il suo lavoro e alla maestra che non sa parlare l'italiano perché arriva da chissà dove? Non possiamo avere maestre piemontesi in Piemonte, maestre venete in Veneto, vigili urbani lombardi in Lombardia, su questo ce la metteremo tutta, chi si provò come Cesarino Monti fu fatto decadere perché osò dare un posto di lavoro a chi risiedeva l'azzate, se da questo deve cominciare la battaglia, la battaglia comincerà da questo, prima la nostra gente, prima i padani e se dobbiamo andare oltre a rispetto di Bruxelles anche prima gli italiani per quanto riguarda l'altra parte del Paese, con tutto il rispetto possibile e immaginabile per tutti, però mettiamo la riforma Fornero. Ma vi pare che ci debba farla morale qualcuno che ha votato una porcheria immonda come la riforma Fornero sul lavoro e sulle pensioni? Io sono convinto che se chiederemo alla gente, anche ai torinesi con la puzza sotto il naso, a quelli che rompono le palle a cota, a quelli che però poi ci hanno il figlio disoccupato. Abroghiamo la riforma Fornero sul lavoro e sulle pensioni? Abroghiamo quella legge infame approvata in agosto dal Parlamento italiano su idea geniale di quel ministro inutile che è la signora Chienge che allarga anche agli immigrati senza cittadinanza la possibilità di partecipare ai concorsi pubblici? Le abroghiamo? Ce le teniamo? Le cancelliamo? Io sono convinto che ci porteremo dietro milioni di persone. Lavoro, lavoro, lavoro. La Lega deve essere laddove si difende un posto di lavoro. Può essere un allevatore, può essere un tabaccaio, può essere un taxista, può essere un camionista, può essere un impiegato, può essere un infermiere. Perché l'Unione Europea fa studiare 12 anni chi vuole fare l'infermiere in Italia e 10 anni chi vuole fare l'infermiere in Germania? Perché sono più furbi, sono più veloci, sono più intelligenti oppure qualcuno ha deciso che il nord deve crepare, che qua dobbiamo essere solo consumatori. Io in questa sala non vedo consumatori, io in questa sala vedo uomini e donne. Non siamo numeri, non siamo nati per consumare e crepare, noi siamo nati anche per pensare. Vogliono ridurci a consumatori e il massimo della scelta è decidere che tipo di pomodori pelati comprare al supermercato, ovviamente non prodotti dalle nostre parti. Ci riprendiamo la nostra sovranità, il nostro lavoro, il nostro futuro. Non è facile. Dicono adesso arriva Salvini, ci riesce Salvini. È vent'anni che ci proviamo a noi. Vedo gente che ha cominciato a lavorare, a faticare per la Lega quando io avevo ancora dieci anni. Vedo Paolo Dotto, vedo tanti altri a cui ho poco da insegnare. Posso solo mettermi a disposizione per fare un segretario che ascolta, che poi decide. Nessuno pensi che ci siano telecomandi, radiocomandi, ho visto che c'è Maroni che mi radioguida, mi teleguida. Se devo sbagliare, sbaglio da solo. Non mi faccio consigliare nell'errore da nessuno. Preferisco far bene o far male da solo. Se devo sbagliare, sbaglio seguendo le indicazioni della Giulia, di mia moglie, non seguendo le indicazioni di qualcun altro. Quindi preferisco sbagliare così. E poi basta. Abbiamo il progetto, abbiamo gli uomini, abbiamo le donne, abbiamo i sindaci, abbiamo quello che gli altri non hanno, abbiamo il cuore. Io per questo non farei a cambio con nessuno. Se veramente ci sentiamo comunità, se abbiamo voglia di essere comunità, il come lo valuteremo, non lo spieghiamo oggi perché quando hai deciso di disubbidire è meglio prima farlo e poi comunicarlo. Quindi diamo una comunicazione di servizio ai colleghi giornalisti. La comunicazione di servizio ai colleghi giornalisti è che qua oggi c'è una dunata sediziosa di una comunità che vuole essere indipendente ed è pronta a disubbidire. Ed è pronta a disubbidire a partire dall'unico linguaggio che capiscono a Roma e a Bruxelles che è il portafoglio ed è pronta a rischiare soprattutto. Diamo questa notizia. Siamo pronti a rischiare ma non con il volto coperto come i centri sociali o come quella gentaglia lì che getta il sasso col passamontagna e poi torna nell'attico di 400 metri padri che il fa gli garantisce tanto non hanno una mazza da fare dalla mattina alla sera e quindi possono fare i disobbedienti perché non hanno altro da fare nella vita. Siamo pronti a disubbidire. La padagna è pronta a disubbidire. Abbiamo centinaia, migliaia di sezioni che sono pronte a essere comunità di lotta, di controinformazione. Sentivo parlare dell'euro. Controinformazione. Io dovrei dire che l'avvicinamento a questa convenzione viene da studi miei che risalgono negli anni passati fra Oxford e Cambridge. Invece devo confessare che il contatto con il professor Borghi e con chi sta cercando da anni di fare controinformazione è avvenuto in maniera totalmente casuale quest'estate quando parlando con l'amico Filippo Pozzi mi ha detto guarda che c'è questa nuova teoria, gli ho mandato un sms a mezzanotte, mi avrà preso per matto, mi ha risposto però le cose che nascono per caso magari sono quelle che vengono meglio e quindi abbiamo bisogno di controinformare, di spiegare, di parlare, di accompagnare e poi di combattere. E quindi ci siamo. Ho parlato molto meno di quanto parla Umberto Bossi di solito anche perché lui ha molto più di me da dire ovviamente ed evidentemente però ci tengo a dirlo che ci sono se serve per far la battaglia tutti insieme. Lo dico a Flavio, lo dico a Maurizio, lo dico a Sonia, a Umberto, a Giancarlo, a Roberto, a Roberto, a tutti Roberto, qua se ti chiami Roberto evidentemente parti avvantaggiato. Non so chi farà cosa, posso chiedere qua in diretta comunque a una persona che mi ha accompagnato e che ho accompagnato in questi anni di darmi una mano magari molto da vicino e si chiama Giancarlo Giorgetti e quindi è obbligato a non dire di no visto che glielo si chiede qua davanti a tutti e poi avremo modo di ragionare con tutto. Noi vinciamo se da qui a maggio guardiamo fuori, guardiamo oltre, vogliamo alto, non se stiamo a dibattere su questo o quel problema interno che pure ci può essere. Noi in Veneto abbiamo due persone eccezionali che ci invidierebbe chiunque che sono Luca Zaia e Flavio Tosi. Non c'è bisogno che sono una risorsa eccezionale e fondamentale che evidentemente possono fare tanto se non tutto perché ripeto sono contento che chi sta protestando in Veneto lo faccia sotto l'insegna del leone di San Marco e non di bandiere che rappresentano l'occupazione, lo statalismo, il centralismo e questo è un buon segno e questo è un buon segno. Però vinciamo se facciamo questo tratto di strada insieme, poi ognuno mantiene la sua sensibilità, la sua specificità, il suo orizzonte, il suo obiettivo. In passato qualcuno ha battagliato per difendere una posizione, un militante della Lega non può battagliare per difendere una posizione, noi battagliamo per liberare il nostro Paese e di posizioni poi ce ne sono 1500, anzi non avremo la gente sufficiente per portare avanti la battaglia che iniziamo adesso. Quindi su questo però l'impegno deve essere ferreo da parte di tutti, ciascuno di voi deve essere testimone e garanzia. Sul dentro stop, chi sbaglia me lo impongo io in primis, paga. Amico, nemico, simpatico, antipatico. Dobbiamo fidarci l'un dell'altro. Chi tocca uno dei nostri deve cominciare ad avere paura, chi arresta un nostro sindaco deve cominciare ad avere paura e se lo ha arrestato senza motivi lo andiamo a prendere a casa, dovunque sia e comunque si chiami. Chi attacca la nostra gente deve cominciare ad avere paura perché siamo persone per bene, siamo persone educate, ma il troppo è troppo, il troppo è troppo. Non è una minaccia ma è un impegno morale e personale prima ancora che politico. Chi attacca la Lega senza motivo, chi attacca il Nord senza motivo, chi attacca un comune senza motivo, deve avere vergogna a tornare a casa e deve provare a iniziare a cercarsi un altro lavoro. Su questo non ho alcun tipo di dubbio e tutto il resto viene da sé. In direzione ostinata e contraria, come diceva De Andrè, devo fare delle citazioni di sinistra perché oggi c'è tutta la peggior destra d'Europa e quindi devo almeno in chiusura a equilibrare in direzione ostinata e contraria. Se siamo una comunità pronta a combattere andando contro vento, se serve andando anche contro mano, uscire dall'euro è difficile, sì, perché fare la padagna è una passeggiata. Però la storia la cambiano i folli, la storia nei momenti eccezionali e questo, io ho fatto storia all'università, ci sono i momenti in cui non basta ragionare in maniera lineare, in maniera oggettiva, in maniera chiara, pulita, non basta essere ingegneri, geometri o ragionieri, ci sono momenti della storia in cui serve altro, serve avere l'obiettivo e ce l'abbiamo e per raggiungerlo, se non ci riesci andando dritto devi sterzare, al volo, all'improvviso, senza avvisare nessuno. Quindi non sarete convocati la sera per la mattina nel giorno della rivoluzione o della disobbedienza, però non manca molto anche perché quando in ciascuno dei vostri uffici vedo tanti sindaci, vedo tanti assessori, quanta gente vi contatta quotidianamente disperata perché non ha lavoro, perché non ce la fa col mutuo, è perché il figlio che si è separato non ce la fa a pagare gli alimenti, è perché stanno perdendo decenni e decenni di sacrifici dei loro genitori. Ripartiamo dalla terra, ripartiamo dalla produzione, ripartiamo da casa nostra, mandando dei messaggi chiari, il tempo delle mediazioni è finito, intendiamo mantenere una per una tutte le promesse fatte, la Regione Lombardia quest'anno riuscirà a ridurre, lo racconterà Romani Roberto Maroni, di alcune decine di milioni di euro i ticket sui farmaci ai nostri cittadini. Bene, giusto, fondamentale, iniziamo a mantenere le promesse tenendo come obiettivo finale per Roberto e per Luca il fatto che, visto che la nostra gente è depredata di 80 miliardi di euro all'anno dallo Stato ladro, l'obiettivo finale non è di far pagare meno la nostra gente, l'obiettivo finale è che la nostra gente non paghi una lira, perché la nostra gente quei servizi li paga e li strapaga, non lo fa in sei mesi, non lo fa in otto mesi, quello è l'obiettivo. Lo dico anche a tutti gli indipendentisti da tastiera che non sono qua dentro ma che vengono a dare alla Lega lezioni di indipendenza e di moralità e ogni tanto escono e poi rientrano e poi riescono e poi rientrano e poi riescono e poi rientrano. Io riaccolgo tutti però confesso che la parabola del figlio al prodigo a catechismo mi faceva girare le balle, perché non capisco perché dovesse essere trattato meglio il figlio che aveva girato il mondo spendendo e espandendo e non facendo una mazza che poi tornava a casa mentre invece quello che Pecorone era lì, che lavorava, obbediva, un po' come i padani, dovesse passare in seconda fila. Mi dicono che questo è il miglior spirito cristiano, evidentemente ho tanta strada da fare per arrivare al miglior spirito cristiano perché non sono in questo mood, non sono in questa condizione d'animo, io preferisco il figlio che è rimasto in casa mia a sacrificarsi per tanti anni. Poi io riaccolgo anche l'altro che torna dopo aver fatto il giro del mondo, però fai un po' di anticamera. Ci sono tanti ex leghisti da andare a recuperare, se a maggio chi almeno una volta nella vita ha votato Lega ci darà l'ultima possibilità facciamo la rivoluzione. Quanti ne trovate quotidianamente che vi dicono eh ma io nel 93 ho votato Lega e poi per l'accordo insomma ci sono rimasto male perché nel mio comune se quelli che in vent'anni hanno votato o dicono di aver votato Lega a maggio in quella che è la battaglia più imminente, indipendenza da Bruxelles e da Roma. Pensate il terrore di questo, se questa gente ogni giorno, Draghi, Napolitano, Schultz, Monti, Letta, tutti preoccupati di questi euroscettici, di questa marea montante, di questa gente che vuole limitare l'immigrazione, di questa gente che non ne può più delle banche, di questa gente che vuole difendere la sua agricoltura, i suoi pescatori, i suoi allevatori, i suoi artigiani, i suoi imprenditori, sono terrorizzati. Se noi a maggio facciamo il boom è l'inizio della fine dell'impero e quindi qua dentro c'è una comunità che ha una grande responsabilità. Non abbiamo da prenderlo zero virgola in più alle elezioni per conquistare un comune o portare due eurodeputati in più a Bruxelles. A Matteo Salvini gliene fotte poco di fare all'eurodeputato, io ci sono se serve per far crollare l'impero. Quindi se abbiamo coscienza del fatto che in ballo non c'è un parlamentare in più in meno, un sindaco in più in meno, è l'ultima chance. Se la prossima volta a Bruxelles tornano gli assassini, tornano i massacratori, è finita. Combatteremo per carità, valle per valle, paese per paese, qua in casa nostra però se abbiamo il cappio intorno al collo è finita. Siamo sul patibolo ma il boia non ha ancora tirato la fune. Il boia è lì, aspetta, ha una paura della Madonna perché sa che se il popolo si ribelle e se ci togliamo il cappio il primo a rimetterci le penne è lui. E quindi il boia di Bruxelles, il boia di Roma ha una paura incredibile. Se voi siete pronti, se voi siete pronti, io vi ringrazio e spero che mi accompagnerete giorno per giorno sopportando i pregi e difetti. Pronti? Sbaglieremo? Sì. Faremo qualche errore? Sì. Se quando faremo qualche errore tutti saremo pronti a dire abbiamo fatto un errore, va bene, non lo rifacciamo domani, chiediamo una mano e è la volta che vinciamo. Quindi nessuno aspetti l'errore di nessun altro se siamo insieme, se siamo tutti uniti. Quanti sindaci ci sono qua dentro? Alzino la mano i sindaci. Venite sul palco, vengano un po' di sindaci sul palco. Prendiamo in rappresentanza. Fate un applauso a chi ha il coraggio di fare il sindaco in un momento come questo perché c'è neanche un altro di sindaco, il sindaco di Verona c'è là in fondo, mi dicono essere fra noi il sindaco di Verona. Flavio, vieni, venite qua di fianco. Venite qua di fianco anche il governatore. Schieratevi, siete anche abbastanza carini. Questo ha impegno, ha garanzia del fatto... abbiamo detto i sindaci, non i fotografi. Adesso ha garanzia del fatto che qua c'è gente che mette qua oggi, 15 dicembre sul tavolo, se serve, il proprio mandato, qualunque sia, la propria carriera, la propria reputazione, la propria famiglia, il proprio stipendio, nel nome del basta. Se siamo d'accordo, se siamo tutti insieme, indipendenza e disobbedienza. Purtroppo l'una senza l'altra non vanno lontano. Luigi Sturzo diceva liberi e forti. Era un democristiano, però liberi e forti non era male. Se ci state gli facciamo un mazzo così. Chi è pronto si alzi in piedi, perché qua c'è da cominciare un cammino che ci porta lontano, un cammino che ci porta non a difenderci, ma a vincere. Non c'è più niente da difendere, c'è da dar battaglia. È finito il momento della retroguardia, quindi se siamo tutti insieme, usciamo dalla rettrincea, ci riprendiamo il lavoro, ci riprendiamo il futuro, nel nome dei nostri figli, perché la Lega non la ferma nessuno, perché a voi non vi ferma nessuno, perché a loro non li ferma nessuno e i nostri nemici comincino ad aver paura, perché quello che stanno vedendo nelle piazze in questi giorni, perché i forconi sono una passeggiata di salute, perché quando arrivano i forconi padani gli facciamo un mazzo così, altro che paura. Quindi io vi ringrazio, si comincia e non ci ferma nessuno. Grazie, viva la Lega e viva voi. E che Dio ce la mandi buona. Qualunque sia il Dio, che il Dio ce la mandi buona. Grazie ragazzi. Allora Allora Allora, scusate, mi tocca fare il notaio, ma dovremmo eleggere il segretario federale. Allora, se i delegati si muniscono di questo tesserino, metto in votazione per alzata di mano la votazione al segretario federale del Stoccio, ordinario militante Matteo Salvini. In chi ha favore, alzi la mano. Proclamo eletto segretario federale Matteo Salvini. Allora, scusate, mi tocca fare il nostro corso, ma dovremmo eleggere il nostro corso. Allora, scusate, mi tocca fare il nostro corso. Allora, do la parola a Matteo Salvini perché ci sono altre due ore di intervento del segretario eletto. No, non... Ho preparato un'altra ora e un quarto di discorso. No, ci tengo a ringraziare i militanti che hanno lavorato per questa bellissima giornata, i militanti che non sono in questo salone ma ci hanno seguito da fuori. Fategli arrivare l'applauso a tutti coloro che ci hanno seguito via streaming, in radio, grazie ad Aurora Lussana per il miracol che riesce a fare con le due lire che ha a disposizione. Evito di ringraziare Tizio Caio perché altrimenti faccio delle brutte figure. Non pensate di esservi liberati la coscienza eleggendo suo malgrado un segretario federale. Quindi da oggi sentitevi vice segretari federali perché insieme si vince, perché insieme si può. Quindi ringrazio uno per uno tutti i ragazzi che si sono fatti qualche ora di macchina. Ringrazio uno per uno tutti voi, ringrazio la Giulia, la Mirta, Federico, ringrazio i giornalisti che vorranno riportare correttamente quello che è successo, non ringrazio i giornalisti che hanno dei pregiudizi nei confronti della Lega però questo è un problema loro a cui siamo abituati e ringrazio chi da oggi si sente non parte di un partito politico ma uomo di una comunità. Siamo una comunità in cammino, se siamo comunità non ci ferma nessuno. Grazie ragazzi fino all'indipendenza, non ci fermiamo fino all'indipendenza. Dichiaro chiuso il congresso federale straordinario della Lega Nord per l'indipendenza della Padania. Buona Padania a tutti!